Musica Io devo ringraziare il sindaco, il professore Caligiuri e ovviamente la comunità di Sovericchia hanno voluto invitare me come rappresentante della federazione calcio. Sono venuto intanto molto contento perché Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato con me in Consiglio federale fino a circa un mese fa ed era un obbligo nei confronti della vostra comunità ma anche nei confronti suoi essere sovrini. Una giornata meravigliosa. Ritengo che hanno fatto un'organizzazione molto bella, Lotito, che pur essendo da noi impegnato da tanto tempo per venire giù oggi si è reso conto che il Consesso Veria Mannello è come cittadina, come comunità ma soprattutto come imprese, industrie eccetera che danno una svolta diversa anche al colore e alla volontà di questa gente per la Calabria intera. Ovviamente conosco bene Florindo Rubettino perché è stato compagno di scuola di mia figlia e conosco bene la sua azienda. Sono felicissimo che questa azienda sia ormai diventata eccezionale in campo nazionale, forse internazionale ritengo e che tante altre aziende stanno andando per la maggiore. Soveria Mannello merita questa amministrazione, merita questi uomini ma merita soprattutto che l'associazionismo di questa soveria venga ad essere eccezionalmente forte e raggiunga obiettivi particolari per dare una svolta anche alla Calabria che ne merita tanto. La soveria è un paese che io non conoscevo sotto l'aspetto della comunità, sotto l'aspetto di questa aggregazione. Sono felice di essere qui oggi e di essere stato invitato. Grazie a tutti.